Sì, meraviglia perciò, da un lato la stupidità africana e dall'altro il loro intelletto riflettente, lo spirito, l'ordine assennato, le ottime istituzioni e le ammirevoli opere delle belle arti, in particolare dell'architettura. Non lo dico io, ma lo disse, anzi lo scrisse Hegel nella sua Filosofia della storia universale, quinto capitolo, riconoscendo in tal modo anche la pertinenza dell'Egitto all'Africa, nonostante il conclamato isolamento di questo paese. Non parlava di letteratura perché, sulla base di Erodoto, non riteneva che l'Egitto avesse prodotto opere degne di considerazione e la scrittura egizia a quel tempo non era praticamente decifrata. Eppure, quella che può sembrare una butade conteneva una sostanziale verità, il miracolo della civiltà faraonica. Nell'immenso continente africano non resta nulla di comparabile per grandezza ed originalità, così come avviene per la civiltà greca rispetto all'Europa, o circa le molteplici civiltà dell'Asia, per tacere delle civiltà delle Americhe. Tuttavia, come alla civiltà greca è stata riconosciuta, e anzitutto da Champollion, proprio meglio di tanti che vennero dopo di lui, la filiazione dalla civiltà egizia anteriore, insieme con altre del Mediterraneo orientale, si può intravedere anche per la civiltà faraonica una derivazione e quale, se vi fu, ne sarebbe il contributo africano. Occorre anzitutto cancellare una sequela di teorie razziste contro e a favore naturalmente del mondo nero, anche inconsapevoli che spinsero persino grandi studiosi a vedere nell'apporto africano al massimo una deviazione dalla prodigiosa creatività della stirpe bianca, e rimanere ai fatti. Più di un secolo fa, nel 1892, un egittologo italiano in visita da Swan, Ernesto Schiaparelli, il futuro direttore e rinnovatore del Museo Egizio di Torino, partecipò alla scoperta di alcune iscrizioni incise sulla facciata di una tomba, sul pendio della necropoli che abbiamo appena vista, denominata Kubetelhawa. In realtà la scoperta fu duplice, perché presto egli si avvide dell'importanza delle iscrizioni geroglifiche che contenevano i più antichi rapporti di varie spedizioni verso l'interno dell'Africa intorno al 2300 a.C. Centinaia di asini viaggiavano per mesi e mesi, spingendosi a sud lungo diverse vie per procurare preziose merci disponibili solo all'interno del continente nero. La geografia di queste spedizioni è ora meglio seguita per mezzo di varie scoperte che gettano luce su antichissime civiltà africane, misconosciute in tempi moderni, ma non a quelli dei faraoni, che con esse intrattenevano regolarmente scambi fruttosi e intensi. In particolare gli scavi condotti nel sito attuale di Kerma hanno rivelato, poi vediamo qui in particolare altre città, ma arriviamo nelle oasi, Kerma, hanno rivelato un importante centro commerciale a monte della terza cateratta che si sviluppò fin dal IV millennio a.C. e dopo la conquista da parte degli egizi intorno al 1500 a.C. prese il nome di Pnubs, che vuol dire giugiolo, forse una traduzione del termine IAM usato nelle iscrizioni più antiche, la cui identificazione non è ancora incontestabile. Se Menfi impose quindi il grandioso modello, onde si diffusero le tecniche principali dell'arte, dell'architettura e della scrittura, che avrebbero avuto una parte fondamentale nella tradizione della conoscenza, probabilmente non sorse lì la più antica civiltà africana. Ricerche archeologiche nel Sahara, che non fu sempre così arido, come appunto abbiamo anche sentito, hanno potuto verificare le premesse nella fase neolitica, nate in modo autonomo nel continente africano rispetto a quanto si riscontra dal versante asiatico. Ad esempio in Africa l'invenzione della ceramica sarebbe anteriore all'introduzione delle tecniche agricole. Inoltre scavi minuziosi, come quelli che vediamo qui, hanno appurato che il predetto abitato di Kerma era anteriore alla fondazione di Menfi e forse conserva un ricordo del nome antico IAM, che forse si pronunciava IREM, quindi Kerma. Anche se le sue rovine non raggiungono l'imponenza di quelle di Menfi, Kerma fu certamente la capitale di un vasto e prospero regno con un ampio irradiamento culturale, riconoscibile dalla diffusione di una ceramica particolare di altissima qualità e la cui potenza costrinse l'Egitto faraonico a dotarsi di un agguerrito apparato difensivo sul confine medizionale al principio del secondo millennio avanti Cristo. Dopo aver riacquistato l'indipendenza, vediamo rapidamente le fasi storiche, persa durante il dominio secolare degli Ixos, nella seconda metà del secondo millennio avanti Cristo fu l'Egitto a conquistare e colonizzare la Nubia, un territorio vasto fino almeno alla Quinta Cateratta, che era stato in precedenza dominato dai re di Kerma. Qua vediamo soltanto altre tombe di Aswan e graffiti di questi viaggiatori che si spingevano. La Nubia divenne allora un secondo Egitto, o almeno una sua estensione, fortemente integrata nella cultura e religione egizia. In questo periodo si sviluppò nell'arte egizia un interesse per la caratterizzazione etnica, facendo apparire le prime fisionomie chiaramente negroidi. Per giunta, una innegabile componente africana presi sopra il vento nella monarchia faraonica alla fine del secondo millennio con le cosiddette dinastie libiche, ventunesima, ventiquattresima e ventiseiesima, quando il potere fu assunto da dinasti stranieri che pure si uniformarono alla civiltà del paese che li ospitava, anche se vi introdussero i loro ordinamenti tribali. Con la venticinquesima dinastia fu invece una stirpe nubica a ripristinare l'unità dell'Egitto, sia pure ancora sotto una diversa etnia africana. Fu così che, alla fine dell'VIII secolo avanti Cristo, la monarchia stabilita a Napata, il regno di Cush, come allora era chiamata la Nubia, conquistò a sua volta l'Egitto contendendolo all'impero neossiro e restaurando una potenza africana quale non esisteva più dai tempi dei Tutmosi e dei Ramesse. Questo episodio storico, durato meno di un secolo, ha invece agito sull'immaginario della nascente egittologia. In occasione dell'apertura del canale di Suez, 1869, a Giuseppe Verdi fu commissionata l'Aida con una trama e un allestimento sensibili alla ricostruzione storica del tempo e che si apriva su scenari africani, molto più a sud dell'Egitto, prefigurandone drammaticamente i conflitti, sia pure con la vittoria finale del faraone egizzi. In effetti, tra il 1842 e il 1845, la spedizione prussiana guidata da Richard Lepsius aveva raggiunto e documentato la Nubia fino al Nilo Azzurro, scoprendo nel potenziale archeologico già annunciato dai primi viaggi al seguito della conquista di Mehmet Ali nel 1821. La differenza tra il dominio libico e quello nubico appena accennati fu di ordine culturale, come quella tra i principati asiatici che ha prima chiarito Liberani. Mentre i Libi, insediati in Egitto, adottarono dall'interno la cultura che vi trovarono, i nubi che annetterono l'Egitto al proprio paese si rifecero invece ad un modello ideale, riprendendo desuete tipologie architettoniche e artistiche, coltivando inoltre un uso linguistico ispirato da antiche opere letterarie del paese sottomesso. In Egitto furono introdotte istituzioni e costruzioni cuscite, ma soprattutto dall'Egitto furono derivati costumi funerari, come la sepoltura regale coperta da una piramide e la lingua con la scrittura per esprimere aspetti del pensiero politico cuscita, in essenza di una redazione linguistica autonoma. Il ritorno dell'Egitto all'indipendenza politica nel 664 a.C. causò un distacco vitale imitazione di modelli faraonici nel senso di un'africanizzazione della civiltà egizia, oramai separata dalla sua matrice. E questo scambio continuò anche quando l'Egitto, sotto il dominio lagide, era impregnato di cultura ellenistica, mentre in Nubia subentrava la monarchia meroitica, la cui capitale meroe si situava poco a nord della sesta cateratta. Ecco, vediamo, ecco qui file, poi in particolare ecco, il Jebel Barkal, una località appunto della Nubia, della profonda Nubia, che sembra sia stata connessa da epoche remote con la regalità egiziana, anche particolarmente nella conformazione naturale dei luoghi. Le piramidi di meroe, che sono ancora un ultimo residuo, ecco, di questa, derivazione dall'Egitto. Il culto di Iside stabilito a file, che abbiamo visto prima, possiamo ritornare. A file, ecco, faremo questa panoramica, torniamo indietro. Ecco, una veduta di file, presso Axuan dalla XXVIesima dinastia, anche se il santuario che vediamo qui è di epoca tolemaico-romana, potenziato dalla dinastia lagide appunto nel III secolo a.C., divenne un centro di attrazione e di irradiazione, tanto verso il Mediterraneo quanto verso l'Africa interna, almeno fino alla confluenza dei due nili. E gli scavi di questi giorni li stanno rinvenendo illuminanti corrispondenze ancora a Napata, dove appena è stato trovato un Mammisi, senza dimenticare i motivisiaci nel tesoro trovato da Giuseppe Ferlini in una piramide di meroe, che abbiamo visto prima, nel 1821. I millenari contatti lungo il Nilo, o ancora per la via delle oasi, meno difficile rispetto al corso fluviale, interrotto da lunghe rapide e le cateratte, alimentavano un traffico commerciale su grandi distanze, che vedeva questi paesi di volta in volta quali destinatari e quali intermediari dello scambio di prodotti provenienti da regioni lontanissime. Ad esempio, merci tipiche dell'Africa subsahariana, dalle zanne di elefante alle code di giraffa, incrociavano minerali preziosi come l'argento e il lapislazzuli, estratti da miniere in Anatolia o in Afghanistan, contatti fatti non solo di beni materiali, quanto anche di concezioni religiose e intellettuali, come insegna il mito dell'occhio del sole, o il culto pastorale di divinità in veste di ariete, o addirittura l'ipostesi della regalità, riconosciuta nell'antica città di Napata, che ho mostrato poco fa. Non si può più dubitare che il patrimonio africano sedimentato e globalmente inteso abbia contribuito alla formazione del pensiero e dell'identità della civiltà faraonica. Scoperte recenti hanno mostrato, andiamo avanti, la capacità delle spedizioni faraoniche di superare le barriere costituite dai vasti deserti, sempre alla ricerca di nuovi approvvigionamenti minerari o di razzie di uomini animali, ma in definitiva anche di paesi mai raggiunti in precedenza. La vasta regione del Jebel Uweinat e del Gif Gebir, che ora illustrerò rapidamente, mostra segni di una presenza umana evoluta e numerosa, già per millenni precedenti la stessa nascita della monarchia faraonica, di cui ancora restano da investigare le tracce. Ecco, questo è un aspetto del Jebel Uweinat. Il rinvenimento di un graffito ufficiale di Mentuotep II, il faraone riunificatore dell'Egitto verso il 2000 a.C., appunto nelle propagine del Jebel Uweinat, la montagna delle sorgenti, dimostra la penetrazione egiziana in luoghi così lontani dal Nilo e in un periodo così antico, a spiegazione di usanze e genti esotiche. Resta però acquisito che l'identità della civiltà faraonica si sviluppò nella sua sede storica e divi elaborò i suoi riti e i suoi simboli, di cui sarebbe vano cercare altrove l'origine. La lingua egiziana nella sua struttura mostra affinità anche con lingue cuscitiche non semitiche dell'Etiopia, con parlate libiche prima dell'arrivo dell'arabo e con lingue oggi presenti nelle vicinanze del lago Chad e alcuni elementi possono essere il retaggio di un comune patrimonio africano. Tali affinità non intaccano però l'individualità della lingua egizia che è quella di gran lunga più antica documentata. Così come è la scrittura geoglifica creata dagli egizi l'unico strumento che permette di acquisire informazioni abbondanti e dirette non solo sull'Egitto, ma soprattutto su quelle altre civiltà, come quasi tutte in Africa, prive di parola scritta autonoma. E ancora l'egiziano come lingua di cultura prefigura l'uso del greco dopo la diffusione dell'ellenismo, in quanto strumenti di espressione non solo di egizianità e di grecità. Collateralmente si verificò solo la notazione delle lingue nubiche sia sotto la grafia meroitica sia dopo la conversione al cristianesimo in una grafia alfabetica derivata dal greco e parallela all'uso del copto in Egitto. A parte la notazione del ghese in Etiopia, una lingua semitica fin dal quinto secolo avanti Cristo, che però non escono dall'ambito locale. Abbandonate oramai le... intanto faccio scorrere delle vedute di queste culture, tracce di... praticamente nel... al confine con la Libia, nel pieno del deserto. Abbandonate oramai le tesi razziste... ecco qui sono dei rilievi che vengono da Jebelein, che mostrano appunto l'occupazione egiziana di vaste zone anche in Africa, nel deserto libico. Abbandonate le tesi razziste appunto che sostenevano l'invasione di uomini bianchi alla base delle grandi creazioni che si svilupparono soprattutto al vertice del delta del Nilo, dove sorse la città di Menfi, continuata fino ad oggi nel Cairo, non resta che ammettere che la grande civiltà faraonica fu un prodotto del suo ambiente, sia pure in una posizione particolare. L'Egitto infatti si situa nell'estremità nord-orientale dell'Africa, al confine con la regione siro-palestinese che ha nutrito una civiltà plurimillenaria, affacciandosi sul mare Mediterraneo, dal quale si svilupparono precoci contatti con le aree Anatolica ed Egea. Da pochi anni è stata pubblicata una nuova iscrizione, pressa poco coeva quella citata all'inizio, la quale parla invece di viaggi e contatti con l'Asia anteriore fino al cuore dell'Anatolia. L'Egitto stesso, comunità territoriale, fu il risultato di molteplici interazioni che si intrecciarono tra la sponda mediterranea e la prima caterata del Nilo, unificando realtà culturali difformi, sinché la stessa civiltà faraonica è nata dall'apporto di contributi, senza dubbio poco omogenei, e dalla loro progressiva elaborazione. La posizione dell'Egitto permise in vero altre uscite fuori dal continente africano. L'Egitto stesso ebbe una parte mediatrice tra civiltà extraafricane e altre in Africa, anche per mezzo della via d'acqua che permetteva di superare l'inospitale deserto, sicché si deve riconoscere alla civiltà faraonica anche una funzione di ponte tra continenti. Al contempo, sarebbe inverosimile negare apporti ricevuti e scambiati nel corso di tutta la sua storia dalla civiltà dei faraoni, tutt'altro che isolata, tanto quanto non ammetterne la spiccata individualità, sorta da una straordinaria integrazione nel suo paesaggio naturale, su cui si è esercitò a tratti una padronanza intellettuale dovuta alle diverse stirpi che vi si mescolarono, la quale impresse allo sviluppo del pensiero una precoce accelerazione nei più diversi campi della conoscenza umana. In conclusione, preparandoci appunto alla visita alle collezioni del museo, vorrei ricordare che quando i monumenti della Nubia, visto che siamo in Africa, il museo si nutre di oggetti che vengono da quel continente, quando i monumenti della Nubia sono stati minacciati dalla costruzione della grande diga di Aswan, che ne avrebbe causato la sommersione permanente, il Museo Egizio di Torino si mostrò in quell'occasione all'altezza della sua tradizione, iniziata da Schiaparelli e prima di tutto da Carlo Vidua, partecipando ai lavori di esplorazione archeologica e di recupero. E adesso fu dato dall'Egitto il pegno di riconoscenza per l'insieme degli sforzi prodigati dagli studiosi di tutta Italia. Vediamo se sono fortunato... No, è tutto prima. Dunque, questo abbiamo, da un lato li ho messi insieme. Questa è la cappella di Alessia, che è stata ricostruita dal Museo Egitto di Torino, uno dei due più antichi templi della Nubia, scavati nella roccia. Uno è stato portato a Torino perché sarebbe stato sommerso, l'altro, il Jebel Doscia, è rimasto sul luogo perché è ancora libero dalle acque. Grazie alla tenacia della professoressa Carla Maria Burri, poi direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura al Cairo, del professor Silvio Curto, soprintendente alle antichità egizie, uno dei due più antichi templi, appunto questo di prima, rupesti della Nubia, nella località di Alessia, fu strappato alle acque per essere ricostruito all'interno del nostro museo, dove inaugurò una nuova sala proiettata verso l'Africa. Lo stesso museo egizio fu in grado, anni dopo, di assicurare un esperto archeologo al Ministero degli Affari Esteri per seguire i lavori di spostamento dei templi di file in una collocazione più elevata, dove sarebbero stati il riparo dall'acqua. Quest'opportunità, che vide apprezzata la competenza e la preparazione di studiosi italiani, fu pure fonte di importanti e irripetibili esperienze che si sarebbero riversate tanto nell'attività di terreno quanto nella cura di collezioni museali. In ultimo aggiungo, anche in omaggio al professor Donadoni, che ne ha dato testimonianza, il settore nubico del Museo Egizio si arricchisce di una sepoltura frutto dei suoi scavi, degli scavi del professor Donadoni, che è testimonianza di ciò che resta del museo, da lui creato presso l'Università di Roma, la Sapienza. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.